Ciao ragazzi sono Arcadi, un folle cercatore di un motivo per cui la sciola di vogliaia e il pubblico generalista dovrebbe andare in sala quando non ci va mai, andare al cinema per vedere film che non siano Bond, Vedova Nera, Dune, cosa pensano di fare gli esercenti? Vogliono far chiudere le sale? Siete dei coglioni! Scrivo su notizie.it, io e i miei collaboratori, su notizie.it lo ripeto, in alto a destra nella sezione cinema con tutti i film della sala, ancora per quanto, e i streaming, l'ultimo, il legame horror italiano andate a vedere, dai, supportatevi! Il film di oggi è Black Box 2020, Blue Mouse la conosciamo bene, però da 4 soldi di budget che poi si rivelano grandi successi. Questa volta non è un Fantasy Island, ultima, forse una delle ultime produzioni, ma un gran bel film Black Box, Amazon Prime Video, e poi non dite che non guardo nulla su Amazon Prime Video, mi raccomando. Cosa parla questo film? Di un uomo, Nolan, che dopo un incidente in cui è morta la moglie e lui ha perso la memoria, che ha compromesso la sua vita sia lavorativa che familiare perché rischia di perdere la custodia della figlia, decide di andare, dopo mille consulti medici fra cui quello del fratello, decide di andare da questa signora super psichiatra con questa tecnica Black Box iper rivoluzionare, una sorta di VR che ti fa entrare nella tua mente e ti fa vedere quello che la tua mente sta elaborando i tuoi problemi, i tuoi disagi per affrontarli. È un horror, noir, thriller, quindi è ovvio ci sarà una parte spoiler, quindi cosa posso dire in questa parte no spoiler? Ecco, il film è davvero meritevole, è l'horror che non meritiamo, da qui il titolo del video, perché in questi anni ci hanno riempito di horror da quattro soldi fatti di jumpscare, di poche idee e di boo, così, ma in realtà noi non meritiamo nulla di tutto questo e abbiamo questo Black Box, davvero uno dei migliori film dell'anno, certo in quest'annata un po' debole però comunque uno dei migliori film dell'anno, è davvero riuscito, è l'horror che spaventa, che angoscia, che tienta denso, perché ci sono delle parti ovviamente all'interno della Black Box, quindi sono delle visioni, però visioni giustificate e una parte invece drammatica nella realtà che comunque fa paura allo stesso modo, con questa ricerca della verità, perché ci sarà un problema in questa Black Box, si scoprirà che un sogno crea il problema, può essere risolto e quindi il nostro no, la protagonista dovrà risolverlo, quindi in questo senso il film funziona molto bene, ottima fotografia, bella regia, gli attori sono bravi, ottima sceneggiatura, davvero molto ben riuscita, tranne una cosa nella scena finale che è eccessiva e si poteva togliere, poi ne parlerò nella parte spoiler, ma per il resto è davvero un film che scorre benissimo, montaggio funziona benissimo, e cos'altro dire, consigliato stasera stessa, fiondatevi davanti alla televisione, con amici, a vedere questo Black Box, se avete la ragazza, stringetela dicendole, ti aiuto io anche se ti fa paura, ecco, è un ottimo modo per cuccare, quindi parte spoiler. Eccoci, ho apprezzato davvero il fatto che nella prima parte il film sembri drammatico e poi diventi infatti scientifico, e sì, perché? Mi ricordo un po' Scanner di Cronenberg, non tanto il film l'ha trovata, nel senso che questa dottoressa, che è la parte forse più triste e più drammatica del film, riesce a collegare la vita di Nolan con quella di Thomas, e quindi collega due generi allo stesso tempo, e io non l'ho trovata eccessiva affatto, funziona molto bene, e uno dice, ma dedicare metà del film a Thomas, poi metà Nolan e metà Thomas, può essere corretto? Per me sì, e anzi, giustificato è opportuno, perché se il film non parla di Nolan, parla di Nolan e Thomas, le doppie personalità di quest'uomo, che lottano in una sorta di bene contro male. Thomas è un uomo cattivo, che è stato ucciso dalla moglie, e c'è quella scena strazzante in cui vuole convincerla a tornare a casa, ma la moglie non lo vuole, ha distrutto tutte le sue cose, e Nolan è un uomo buono, pacifico, che non ha mai tocciso la moglie, che non ha mai fatto nulla, e che ha bisogno di tornare dalla figliolettava, che deliziosa, quella tigia mi ha fatto morire da ridere, e mi ha commosso, questo film mi ha uno dei film più emotivi dell'anno. Forse non è un capolavoro, ma riesce ad arrivare al punto, forte e tenta d'enso, un film che non dimenticherò così presto. E quindi Nolan contro Thomas, ovviamente vince Nolan perché è il buono, no, vince Thomas perché è più forte, come dovrebbe essere, ma si sacrifica perché capisce che la sua vita non ha valore. Thomas si rinchiude nell'angolo buio perché sa che Nolan merita più di lui, che ha sbagliato, infatti questo ce lo dice una scena, ce lo sottolinea una scena che ci mostrano nel film. Wow, questa sceneggiatura che funziona, ma è incredibile, no? Questa tecnica rivoluzionaria di mostrare nel film quello che vogliamo sottointendere allo spettatore. Quindi, siccome ha capito che la moglie non lo vuole, che anzi lo spinge via, lui dice ma forse non ha senso, non posso rimediare a quello che ho fatto e quindi mi chiudo nello scherzo dell'armadio della mente di Nolan. Ma giustamente, e quindi è commovente, la madre è in sé, direbbero in inglese, è folle completamente. E quando vuole poi costringere attraverso questi ricatti il suo figlio Thomas a ritornare e a uccidere Nolan nella sua mente, tu capisci che Thomas è una vittima della madre, che lo voleva in un certo modo, con le aspettative, e lo ha costretto a essere represso e questo ha portato alla violenza sulla moglie, cioè tutto collegato. Infatti la donna non si arrende fino all'ultima scena. Però ho trovato quella cosa troppo eccessiva da sorta di aspetta e facciamo un sequel. Spero proprio di no. Il film è ottimo, consigliatissimo e dovete consigliarlo anche ad altri perché merita, secondo me, uno dei migliori film del 2020. Per quello, ripeto, che ci offre l'annata, visto che stanno rinviando tutti i film possibili e immaginabili, non lo so, facciamo The Batman nel 2025, già che ci siamo. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie per la visione